Innovazioni vincenti nel campo agroalimentare, questo l'oggetto appunto della giornata particolare qui al Bese di premiazione di 5 donne che hanno rappresentato con le loro case history degli esempi virtuosi. Oscar Farinetti con Italy e altre iniziative sicuramente lo rappresenta sul versante maschile. Bentrovato, buona giornata. Salve, beh normalmente le donne sono più brave di noi, lo dimostrano soprattutto nel campo della tenacia. In genere loro finiscono sempre quello che incominciano, noi maschietti siamo più incerti in questo. Io in Italy ci sono un sacco di donne nelle posizioni chiave, sono tra le più brave se non le più brave. Quindi sono molto contento di conoscere queste 5 esperienze e di ascoltare che cosa hanno combinato. Quindi questa è una cosa abbastanza importante. L'agroalimentare a questo punto non è neanche più considerato un investimento di moda, è una realtà consistente, evidente nel nostro panorama economico. Beh ci mancherebbe ancora che fosse moda, stiamo parlando di terra, di terra madre che è femmina e quindi è giusto che le femmine se ne occupino. Stiamo parlando del bene primordiale, dell'unico prodotto che mettiamo nel nostro corpo, non è tutt'altro che moda, è la verità. E ci sarà sempre più un ritorno. L'abbiamo un po' abbandonato, ultimamente è tempo di rientrarci. Possiamo produrre meglio, aumentare la qualità, aumentare il prezzo medio e far arrivare più quattrini dell'economia nel campo dell'agroalimentare magari rinunciando un po' ad altri beni più effimeri che sono meno importanti per l'umanità.